Passo subito la parola a Heinz che ringrazio di nuovo per la disponibilità che offre sempre a Transform Italia, Transform Europa e con l'augurio insomma di rivederci poi anche per parlare di successi conquistati a livello europeo. Grazie. Allora, noi come partito della sinistra europea abbiamo avuto oggi una riunione del segretariato politico della sinistra europea. Noi nel centro di questa riunione era il dibattito di un documento, di una piattaforma che si chiama la Corona Crisi e le conseguenze per la politica europea. Questa piattaforma, questo documento dovrebbe funzionare, dovrebbe essere la base per fare una campagna. Credo che questo sia il grande problema, che la sinistra non è molto visibile in questo momento. Noi abbiamo delle proposte, abbiamo delle alternative, però non siamo molto visibili nel dibattito pubblico. E per questo vogliamo lanciare questa campagna. Però vorrei dire qualcosa anche per quanto riguarda questo documento, i contenuti, perché è chiaro per noi e anche per tutti noi, è chiaro che questa crisi dimostra chiaramente il fallimento del modello economico-sociale neoliberalista prevalente. E' chiaro che noi abbiamo bisogno di un cambiamento radicale della politica. Noi come sinistra europea riteniamo necessarie attività che riguardano cinque poli. Il primo polo chiaramente è la protezione della popolazione. Vuol dire che prima di tutto si deve proteggere le persone. Vuol dire le persone che lavorano in settori a rischio, come nell'ospedale, nei negozi, eccetera. Però anche le persone che non possono lavorare, che rischiano di perdere il posto di lavoro con una compensazione finanziaria. In questo contesto chiediamo anche un fondo sanitario europeo, per cui c'è anche una petizione che è stata lanciata da Rifondazione Comunista, che adesso è una petizione europea. Questo fondo sanitario europeo dovrebbe essere finanziato dalla Banca Centrale europea con titoli che non sono negoziabili sul mercato. Il secondo polo, questo è sicuramente il polo più importante riguardo all'economia. Vogliamo avere un rilancio economico, vuol dire investimenti in particolare nei servizi pubblici, però anche un piano di investimento per il recupero dell'economia, però non ritornare alla situazione che abbiamo avuto prima. uno sviluppo economico in altra direzione vuol dire che noi dobbiamo affrontare le grandi sfide ecologiche, vuol dire per esempio il cambiamento climatico e per questo abbiamo bisogno di una trasformazione ecologica dell'industria. Però per noi, per la sinistra, è molto importante la connessione tra le esigenze ecologiche e quelli sociali. E per questo dobbiamo avere anche delle risposte per il cambiamento nel mondo di lavoro, per avere delle risposte per i lavoratori. Io credo che in questo processo si devono coinvolgere direttamente i lavoratori e per questo credo che questa necessaria trasformazione ecologico-sociale dovrebbe essere combinata con la democrazia economica, con l'economia-democrazia. E centrale per noi, come è anche stato detto durante questo webinar, è il ruolo della Banca Centrale Europea. Secondo noi, la Banca Centrale Europea deve cambiare radicalmente, deve assumere la sua responsabilità per lo sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda la creazione dei posti di lavoro. E per questo ci vuole un altro ruolo della Banca Centrale Europea. Io credo che deve essere anche nel centro della campagna un altro ruolo della Banca Centrale Europea. È chiaro che si deve cancellare naturalmente il patto di stabilità e di crescita. E' interessante che in questo momento tutte queste cose non funzionano più. Per esempio, anche il governo tedesco ha sospeso il principio del bilancio in pareccio. Però è chiaro che vogliono ritornare a questa situazione dopo la crisi, però credo che sia molto necessario di avere, veramente di cancellare questo patto di stabilità e di crescita. Per quanto riguarda il ruolo della Banca Centrale Europea, purtroppo abbiamo questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Secondo me questa è una sentenza veramente molto anti-europea. È una sentenza, secondo me, scandalosa. È veramente anche economicamente molto contraproducente. Per questo credo che dobbiamo naturalmente prendere in considerazione questa situazione. è molto chiaro che con una sentenza come quella non si può avere un ruolo attivo della Banca Centrale Europea per lo sviluppo economico e sociale in Europa. Questo è sicuramente un grande problema. Un altro punto sicuramente è anche la questione del debito. Noi chiediamo perlomeno una moratoria del debito pubblico e crediamo che anche il debito pubblico detenuto dalla Banca Centrale Europea deve essere annullato. Questa è la situazione economica. Secondo me noi dobbiamo andare nella direzione della trasformazione ecologico-sociale, di cambiare veramente il modello economico-sociale. Il terzo polo riguarda la democrazia, perché abbiamo la situazione che alcuni vogliono sfruttare la situazione di emergenza per limitare o per sospendere i diritti democratici. Secondo noi dobbiamo difendere la democrazia anche per quanto riguarda la funzione del Parlamento. i parlamenti devono rimanere in funzione e non essere sospesi come è il caso in Ungheria. Il quarto polo riguarda il disarmo e la pace. Credo che il disarmo e la pace deve essere anche nel centro della nostra politica. La situazione che affrontiamo oggi deve essere anche un'opportunità per un impegno più forte per quanto riguarda la pace e anche il disarmo. Credo che questo sia molto necessario e voglio ricordare che proprio oggi, il 9 marzo, abbiamo anche il giorno della vittoria sul fascismo. stiamo celebrando anche la liberazione del fascismo e credo che questo per noi deve essere una spinta per avere un impegno più forte per quanto riguarda il disarmo e la pace. Il quinto polo riguarda la solidarietà internazionale. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Christoph per quanto riguarda la rete globale che credo che noi dobbiamo naturalmente sviluppare la solidarietà europea, però è una cosa veramente globale, internazionale e noi come sinistra europea abbiamo delle esperienze con la solidarietà internazionale in particolare per quanto riguarda l'America Latina e per questo credo che questo sia veramente qualcosa che per un impegno anche più forte per quanto riguarda questa solidarietà. però quello che ho detto all'inizio, la grande sfida è di non avere solo delle proposte, una piattaforma, un documento, ci vuole, abbiamo bisogno di una campagna politica, di una campagna reale per essere più visibile e per avere anche la possibilità di influenzare la politica e per questo vogliamo lanciare questa campagna, stiamo elaborando un piano per questa campagna e sono convinto che noi dobbiamo migliorare, rafforzare anche la cooperazione tra le diverse forze e per questo noi cooperiamo con Transform, come sapete, anche col gruppo parlamentare della sinistra, la GUE-NGL e anche con tutte le altre forze della sinistra che non sono membri o osservatori del partito della sinistra europea e naturalmente anche, questo è molto importante, con i sindacati, lo so benissimo che ci sono anche dei problemi per quanto riguarda il movimento sindacale europeo, però abbiamo anche questa rete di base per quanto riguarda i sindacalisti su livello europeo e anche con i movimenti sociali. Credo che per noi la grande sfida nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi è di lanciare questa campagna, di realizzare questa campagna e non solo avere, diciamo, delle proposte, un documento, la grande sfida è che noi dobbiamo diventare una forza politica che conta. Grazie. Grazie, l'applauso è partito spontaneo.